bentornati in un nuovo episodio delle discussioni devo dargli un nome a sta rubrica perché continuo a girarci intorno e non gli ho ancora dato non le ho ancora dato un nome chiamiamole games daily o qualcosa del genere vedremo quando quando trovo un nome glielo glielo do tra l'altro senza occhiali devo essere proprio bruttissimo e invece con gli occhiali no questo format di discussioni giornaliere su diciamo un po più un panorama un po più ampio rispetto a quello che magari possiamo coprire nelle news flash che abbiamo sui nostri profili social sulle nostre pagine che magari discutiamo i vari source cast e pur parler transizione rapidissima perché in realtà oggi voglio parlarvi e per chi mi ascolta ovviamente ricordatevi che potete anche recuperare queste discussioni mattutine del lunedì a venerdì in formato video genericamente riesco a caricarle sul canale youtube di gamesource.it poco dopo pranzo o attorno a pranzo la discussione di oggi in realtà vuole andare a toccare scusate la voce ma non ho non ho la gola messa benissimo vuole andare a toccare un paio di punti in particolare sollevati da nascondiamo la mia barra dei preferiti non sia mai che si mostrano cose compromettenti in particolare sollevati da un articolo di dual shockers no non quello che vi sto mostrando per chi mi guarda in video un diciamo onore ad hi fi rush visto che microsoft non essenzialmente non gliene vuole dare articolo che comunque vi consiglio di leggere perché appunto parla un po di come hi fi rush in generale fosse un po e ancora sia un cosiddetto gioco impossibile per microsoft o meglio per xbox bethesda e tango tango gameworks ovviamente uno perché provengono da titoli o fortemente horror come evil within provenivano da titoli fortemente horror o con un sottotono horror come ghostware tokyo che ho personalmente apprezzato molto non moltissimo però molto vi consiglierei comunque di recuperarlo non vorrei dire una cavolata ma potrebbe essere su game pass però comunque insomma in qualche modo avete modo in qualche modo avete modo di recuperarlo e mi raccomando andatevi a recuperare anche hi fi rush anzi quasi quasi vi direi di comprarlo direttamente così mostriamo mostriamo a xbox la cazzata enorme che appena fatto anche se dubito che il nostro comparare ora cambi davvero qualcosa in realtà il discorso e l'articolo dal quale volevo partire è questo articolo di dual shockers lo vedete così perché purtroppo dual shockers soffre ultimamente di un problema piuttosto intenso con le pubblicità quindi era illegibile se non l'avessi messo in modalità lettura il meglio l'ex game director perché ovviamente abbiamo visto qualche giorno fa che ha aperto un suo studio l'ex game director di xcom 2 dice che non ha mai visto un livello di licenziamenti così orribile come quello che sta avvenendo adesso in 25 anni dell'industria si si torna a parlare un po di licenziamenti oggi ma non solo di licenziamenti in realtà si parla un po di più voglio andare un po più a toccare il costo dei dei titoli in sviluppo far capire un po meglio in generale scusate una cosa velocissima in generale voglio farvi capire o di nuovo crearvi un contesto e scusatemi se mi ripeto su questa cosa però per me è essenziale l'idea di creare un contesto cioè non voglio mettervi in bocca opinioni vi posso magari riferire le mie ma voglio una discussione voglio che voi stessi e voi stesse riusciate a impostare dei dialoghi delle discussioni all'interno della vostra anche piccolissima community in con noi in generale l'importante è avere elementi in più perché molto spesso ho l'impressione che si giudichi l'ambiente di gioco e l'ambiente videoludico in generale con poche cartucce diciamo a disposizione e non è per forza colpa dell'utenza siamo di fronte a un mercato che ne parlavamo giusto ieri su source cast no su pur parler e vi consiglio di andarvela a recuperare di andarvi a recuperare la live disponibile solo su twitch.tv slash games or sit siamo di fronte a un mercato che butta fuori letteralmente scusate il termine del butta fuori davvero troppi giochi rispetto a quelli che riusciamo a giocare in generale e in particolare un'industria che sembra aver perso la scala umana ma anche economica e si sta vedendo di tutto il processo di sviluppo in generale torniamo all'articolo l'ex direttore di xcom 2 dice appunto parla di questi di questi licenziamenti che non ha mai visti così tanti jake solomon questo il nome del veterano di fireaxis ex fireaxis ora midsummer studios studio indipendente del quale vi abbiamo annunciato la creazione qualche giorno fa si è seduto in un'intervista con dual shockers per parlare del in particolare del nuovo studio e del nuovo titolo che stanno preparando quell immersive sim che permetterà ai giocatori e giocatrici di creare una storia anche solo giocando e poi poterla condividere queste le parole del dello sviluppatore ma ovviamente si è parlato anche della fortuna solomon stesso ha detto ha parlato della fortuna che ha avuto lui e lo studio midsummer a raccogliere sei milioni come diciamo sorta di boost economico iniziale ma soprattutto della fortuna in generale dello studio della possibilità di creare uno studio così visto lo stato dell'industria momentaneo dice solomon è chiaramente un ambiente molto diverso da quello che era anni fa non troppi anni fa tra l'altro qualche anno fa credo che ora come ora sia persino peggio la situazione una sorta di cascata partita da non c'è non ci sono soldi per fare nuove cose quindi nuove ip nuove meccaniche poi non ci sono i soldi per le meccaniche i giochi e l'ip che esistono già e adesso siamo a questo punto con dei licenziamenti che ormai sono all'ordine del giorno secondo una stima infatti ci sono stati circa 9500 licenziamenti nell'industria videoludica solo a partire da gennaio 2024 siamo il 15 maggio cinque mesi stiamo parlando di 2000 persone più o meno al mese se dobbiamo fare proprio una statistica statistica particolarmente particolarmente preoccupante solo mondici 25 anni non ho mai visto nulla vi ricordo che lui è 23 anni più o meno che è un game dev in 25 anni io non ho mai visto nulla di questo tipo siamo veramente fortunati di essere in una posizione nella quale siamo al sicuro e non siamo legati a nessun publisher controlliamo il nostro destino occhiolino a xbox mid summer studios ovviamente adesso ne parliamo brevemente è un team che si specializza in videogiochi system driven cioè significa che è praticamente tutto system design system design significa che sono tutte strutture di gioco che servono al giocatore alla giocatrice come ingredienti per la costruzione di una quella che viene definita la player story faccio l'esempio faccio un sea of thieves anche se non è un esempio calzatissimo ma sea of thieves mette vi mette davanti ti mette davanti tutti gli ingredienti perché poi tu da solo con le tue amiche e i tuoi amici eccetera affrontate una missione e quella che vivete è la vostra player story che è solamente vostra perché solamente a voi è successa quella combinazione di fattori un po come la questione no del piccolo trivia non so se lo sapete ma nel momento in cui voi prendete un mazzo di carte e lo mescolate quella conformazione di mazzo è talmente unica che se qualcun altro si mettesse a mescolare il mazzo quando è nato l'universo solo per farvi capire l'assurdo numero ok se qualcun altro si mettesse a mescolare il mazzo quando è nato l'universo essenzialmente prima di raggiungere o statisticamente è probabile che raggiunga la vostra conformazione di mazzo più o meno a un milione un miliardo perdonatemi un miliardo di età dell'universo cioè quindi deve farsi dall'inizio dell'universo ad adesso un altro miliardo di volte prima di arrivare vagamente alla possibilità di avere un mazzo come il vostro system design funziona così system design non funziona esattamente così ma è un modo molto semplice di spiegarvelo ossia fa in modo di creare più che situazioni predefinite come ad esempio può essere marvel spider-man ok dove quell'inseguimento deve essere fatto in quel modo la macchina va per quella via eccetera ma crea delle micro meccaniche dei micro loop di gioco dei micro sistemi che appunto si chiama system design nel loro complesso che in mano a giocatore x giocatrice y creano una combo praticamente unica ecco perché poi chiaramente midsummer sta di nuovo più o meno lavorando a un live sim a un live sim essenzialmente la cosa interessante però viene qui e solomon si esprime a riguardo qui in un modo che trovo davvero interessante un recente trend ha visto i budget dei ha visto genericamente budget più alti per i titoli tripla a visto che uscite consecutive continuano a alzare diciamo la sticella una conseguenza di questo è che questi giochi ad alto budget devono sempre performare meglio e meglio e meglio e meglio e meglio di quello prima per andare in break even di nuovo contesto il break even mediamente è il guadagno di un gioco che permette di recuperare i costi di sviluppo sparo spiderman è costato 270 milioni nel momento in cui a livello di vendite recuperano i 270 milioni quello è il break even cioè hanno raggiunto al break even da quel punto in poi sono tutti guadagni ok tenete conto comunque apro una parentesi perché come al solito io sono sviluppatore da poco quindi non ho credo che neanche uno sviluppatore di 30 anni abbia tutte le risposte però quando vi trovate davanti a titoli con budget così spropositati ricordatevi che a seconda del titolo e per i titoli grossi a volte stiamo parlando anche del 50 per cento tra il 25 e il 50 per cento del costo del sviluppo di un gioco è solo marketing e ovviamente più grosso il gioco più questa cifra si avvicina al 50 per cento quindi mi sono perso un attimo perdonatemi eccolo qui lui fa l'esempio solomon di ho giocato spiderman 2 ed ero tipo what the fuck della serie come ho fatto sta cosa sembra più complesso di aver creato avengers endgame che lo sapete è stato piuttosto complesso e forse non vedremo più qualcosa del genere e qui arriva lo spunto interessante solomon vede i tripla come o meglio a riconosce che i tripla si sono come evoluti in quadrupla ricordiamo che gli sviluppatori di calisto protocol il cui nome al momento non ricordo avevano definito calisto protocol quadrupla al tempo come i single player di sony ma anche quintupla come gta e red dead redemption di rockstar nei quadrupla devi essere in grado di creare un qualcosa di ottimale con chiamiamola mano d'opera ok quindi un livello di creazione proprio un livello tecnico estremo e avere un pubblico poi ai doppia come il diverse pal world che sono più emergenti definisce effettivamente potrebbe essere interessante riconoscere proprio in questi doppia come è il diverse pal world titoli sui magari su cui magari non punti eccessivamente anche a livello magari di publisher ma che poi con la giusta community usciti nel giusto momento all'interno proprio del calendario di uscite video ludiche con la giusta spinta di marketing con lo youtuber lo streamer il content creator la redazione giusta che magari ne parla nel momento giusto per tutta una combinazione di fattori il titolo emerge abbiamo visto ieri accennando leggermente la cosa in pur parlay è il divers 2 ha venduto tipo 12 milioni di copie perfino sopra ha un god of war uno dei recenti nomi grossi ragnarok o comunque reboot del 2018 quindi stiamo parlando di numeri di vendite elevatissime per un titolo che è un doppia sia a livello di grandezza del team di sviluppo che in generale delle spese che sono state affrontate per si per svilupparlo solomon per andare a chiudere questo articolo parla delle release di al divers 2 e man or lords come un indice positivo del dello stato dell'industria vediamo una gran parte di giocatrici giocatori che accorrono a questi titoli più lean letteralmente sono senza grasso ok quindi più puliti quasi più essenziali ed effettivamente questo in al divers 2 purtroppo non ho giocato man or lords ma devo dare ragione al commento fatto su su el divers 2 è proprio senza grasso c'è un'esperienza proprio essenziale e nella sua ripetitività ingaggia vediamo quindi giocatori e giocatrici avvicinarsi a correre sempre di più a questi titoli a più basso budget e più puliti senza grasso che sono costruiti attorno a sistemi emergenti piuttosto che a titoli ad alto budget incredibilmente cinematici e che fanno proprio dello spettacolo anche visivo il loro il loro core il titolo attuale di mid summer studios appunto sarà il titolo di debutto è un live sim come vi dicevo prima player driven quindi le affermazioni di solomon in un in un articolo precedente erano proprio quelle di anche solo giocando giocatore giocatrice creeranno una loro storia che poi potranno condividere quindi proprio quasi l'essenzialità di un live sim e solomon sta mirando al mercato doppia da questo articolo in realtà volevo andare a toccare velocemente giusto per rimanere nei 20 25 minuti come sempre la pagina wikipedia dei giochi più costosi a livello di sviluppo purtroppo non ci sono un sacco di come dire un sacco di cifre di sviluppo note per la maggior parte dei titoli però ce ne sono alcune di interessanti partiamo dal basso ok anche perché ce ne sono un po' qui sotto ci sono altri discorsi che faremo dopo allora dal basso di questa lista ok saltandone ovviamente qualcuno half life 2 40 milioni di dollari al tempo 65 milioni con l'inflazione lords of the fallen 2023 quindi l'ultimo quello di x words 66 milioni e 6 ovviamente l'inflazione del 2003 quindi stiamo ancora parlando di 67 milioni quindi idealmente fermatevi un attimo a riflettere half life 2 è costato al tempo quello che ha costato oggi lords of the fallen final fantasy 9 uscito nel 2000 circa 71 milioni di dollari 40 milioni all'epoca 70 milioni di dollari con l'inflazione nel range dei 70 heavy rain gears of war 3 e gears of war judgment siamo sugli 80 con gran turismo 5 qui però arriva la prima sorpresa insomniac games ratchet e clank a rift apart nel 2021 91 81 milioni di dollari al tempo al tempo poi tre anni fa 91 milioni di dollari dico solo milioni senza ripetere dollari 91 milioni la stessa cifra paragonata di watchdogs costato 68 nel 2014 88 ad oggi è chiaro che fa un po' strano continuare a parlare di all'epoca adesso all'epoca adesso però effettivamente se noi utilizziamo solo la scala dell'inflazione moderna come scale di valutazione dei costi di sviluppo di videogioco vedete che ci sono ragionamenti molto interessanti che emergono frecciatina uno fra tutti ratchet e clank a rift apart e watchdogs watchdogs è assolutamente un titolo fallato rispetto a quello che c'era stato promesso da quel primo trailer che mamma mia ancora è forse uno dei trailer che ricordo con più affetto nel momento in cui l'avevo visto perché ero convinto di essere davanti a veramente il futuro del gaming mi ero proprio detto ok questo è il prossimo step del gaming poi è uscito con i suoi limiti soprattutto visivi ma si era di fronte a un medio open world con delle meccaniche di hacking interessanti perché erano praticamente utilizzabili ovunque in particolare applicabili al allo scoprire no informazioni sui vari npc e poi ad alzare cos'erano le barriere quelle del traffico a spegnere far diventare semafori rossi verdi insomma c'era un po di sperimentazione in quel mondo di gioco ok e stiamo comunque parlando di un open world con meccaniche meccaniche che davano diciamo stimoli di gameplay paragoniamo a ratchet and clank che per dio ha un sacco di pianeti un sacco di armi un sacco di nemici a schermo super goofy ed è un gioco divertente cioè assolutamente ratchet and clank in particolare rift apart io che non ho una lunghissima esperienza con l'ip mi ha divertito molto e anche platinarlo mi ha divertito molto però capite che è un paragone un po strano dire che entrambi i giochi sono costati 90 milioni considerando anche che watchdogs mira non tanto a un fotorealismo ma a modelli realistici reali mentre ratchet and clank va più al e lo si vede anche magari nelle modalità foto no del titolo va più al proprio la minuzia di particolari il riflesso sui metalli le maglie metalliche dei determinati elementi di gioco è un paragone veramente di di costi che è molto è molto interessante e un po preoccupa proprio in funzione di quello che di quello che dice solomon nell'articolo ossia più o meno ci stiamo concentrando nelle cose sbagliate e titoli più puliti e senza grasso con meccaniche emergenti potrebbero essere effettivamente quello di cui la community di giocatori e giocatrici ora come ora ha bisogno ovviamente di fronte a watchdogs e un ratchet and clank rift apart ti chiedi esattamente qual è quello senza grasso perché idealmente qualcuno direbbe ratchet and clank però sarei curioso in realtà anche da parte vostra e vorrei vi esprimeste sui commenti a riguardo sia i commenti della versione audio di spotify sia i commenti della versione video su youtube secondo voi fra un watchdogs è un rift apart qual è l'esperienza senza grasso qual è l'esperienza più lineare qual è quella non dico sfubinari perché sono automaticamente mi verrebbe da pensare a un ratchet e clank ma qual è l'esperienza che vi sembra più essenziale se doveste scegliere fra questi due titoli ovviamente sto parlando del watchdogs del 2014 non il 2 altre un altro paio di cifre poi andiamo in chiusura da witcher 3 81 milioni con l'inflazione 104 stiamo parlando di una decina di milioni in più rispetto a watchdogs e vi ricordo che watchdogs in particolare perdonatemi the witcher in particolare era stato al centro di un articolo interessante di non vorrei dire una cavolata ma tre anni fa di gaming bolt dovrei recuperare magari mettervi la fonte che andava a guardare come il primo achievement di gioco cioè quello praticamente a un'ora meno di un'ora dall'inizio di gioco era stato ottenuto dall 81 per cento stiamo parlando di queste cifre quello che era più logico ottenere dopo perché ovviamente data la struttura relativamente open world anzi open world di the witcher 3 ci si può immaginare una conseguenzialità di trofei aveva un drop assurdo è un drop tipo del 21 e da lì in peggio quindi sembra veramente che i giochi grandi non siano finiti in generale e da parte di chi li gioca non sto parlando da livello di sviluppo immortals of aveum 125 flopato io non l'ho provato ma mi è stato detto più e più volte di andarlo a provare gta 4 100 milioni all'epoca 142 con l'inflazione callisto protocol 162 169 cioè capite che un callisto protocol è costato il doppio di un ratchet clank rift a parte io capisco il fotorealismo però sembra che l'assenza di grasso di un'esperienza come calisto protocol incredibilmente lineare l'abbiano spesa tutta per sparare il graficone e tranne per le gli asset del fuoco che ancora fanno un sacco ridere facendolo comunque sembrare bloated c'è gonfio di un di un gonfiore innaturale in determinate cose l'ho già ammesso in passato e mi sembra anche ai microfoni di game source o meglio al mio questo qua davanti calisto protocol senza il graficone credo sarebbe piaciuto molto di più la butto lì destiny 180 milioni miles morales 184 capite anche solo il salto di spider man forse lo vediamo dopo lo vediamo dopo no c'è spider man 2 avevo visto marvel spider man 1 ma l'ho completamente perso vi chiedo scusa tra l'altro passo a questo shift perché sennò vi viene il mal d'auto a vedermi rotolare tra una voce e l'altra vabbè l'avevo perso miles morales 184 ma mi sembrava fosse sui 160 forse il primo il primo spider man halo 2 194 forbidden west horizon forbidden west 221 della stovas parte 2 260 gioco che ha odorato della stovas parte 1 è il motivo per cui sono diventato uno sviluppatore final fantasy 7 quello dell'87 quello del 97 80 145 milioni diventati ora 152 275 anche se fosse un po un outlier di wolverine si dice 305 milioni di spider man 2 315 milioni di dollari modern warfare 2 300 quello del 2009 355 milioni di dollari cyberpunk 497 milioni di dollari non guardo neanche a genshin che sono 700 o a star citizen che sono 657 star citizen ci sarebbe un discorso più ampio da fare 497 milioni per cyberpunk 2077 mezzo milione e mezzo miliardo di dollari per cyberpunk 2077 io la mia espressione l'ho già la mia la mia opinione l'ho già l'ho già l'ho già espressa come al solito lo ripeto per la ennesima volta tutti questi vogliono essere piccoli indizi e piccoli un sottobosco di dati che voglio dare a voi però mettiamolo mettiamola mettiamo quello che abbiamo appena letto e visto come una cartuccia aggiuntiva di un'analisi di mercato che non ha bisogno di analisti di mercato per essere compresa anche superficialmente non sto dicendo che gli analisti di mercato sono inutili sia mai che poi magari mi si offende qualcuno però sto scherzando chiaramente sono necessari e sarebbero in grado vorrei tanto conoscerne uno ma sto cercando contatti sarebbero in grado di darci una lettura più approfondita di quello che vediamo però la sensazione a pelle visto che ne parlano sviluppatori ne parlano analisti ne parlano giornalisti come tom warren e jason schreier al momento il mercato del videogioco è malsano in determinate cose in molte cose nel modo in cui tratta i propri esseri umani vedasi anche gli ultime le ultime non le definirei notizie ma ultimi vapori social che vedono ancora una decina circa di accuse di crunch molestie all'interno di moon studios quelli di orient blind forest story and the will of the wisps è presto anche di no rest for the wicked vedasi licenziamenti ci sono davvero mille indizi quindi è anche brutto personalmente come giocatore come sviluppatore continuare a dire l'industria del videogioco sta male però l'industria del videogioco sta male non tutta come al solito ci sono diciamo situazioni non tossiche situazioni positive ci sono realtà come il divers 2 che vabbè pure con tutto il fiasco steam o man or lords che proprio nel loro essere esperienze mi piace la definizione l'esperienza senza grasso l'esperienza magra di ma non in senso negativo mi piace la definizione di solomon in questo in questo contesto esperienze più magre che effettivamente in funzione anche solo lo anche solo della loro struttura di gioco riescono a soddisfare dei palati che forse di tutta la dolcezza di tutto il graficone di tutte gli fps e i dlss e il ray tracing un po' si è stancata sono parole che riempiono molto la bocca ma forse emotivamente e a livello di fan che è sempre una parola molto difficile da tradurre in italiano nel contesto del videogioco non ci riempiono poi così tanto è come mangiare veramente non so fare colazione con quattro brioche e poi dire sono sazio per oggi ho mangiato no c'è bisogno ed è sempre più evidente di una dimagrimento di alcuni processi di sviluppo perché veramente essere davanti a cifre come quelle che abbiamo appena letto anche di fronte a un veterano di 23 anni che dice non di 23 anni nel senso 23 anni che è nell'industria che dice i tripla sono diventati quadrupla e quintupla in determinati casi e vedete che non abbiamo avuto i costi di gta 5 anche se probabilmente sono scritti altrove cioè diventano veramente costanti indizi di un mercato che forse anche per colpa della pandemia in quel in quei due anni ha avuto il boom è cresciuto che aumentiamo tutto spariamo le cifre però poi nel concreto non ci sta dando veramente di più quindi boh forse un forse un riassetto di tutto quanto che magari stiamo vedendo proprio nel cambio di identità di xbox che potrebbe andare sempre di più verso l'essere un publisher il cambio di identità di di sony che sta pensando sempre di più al mondo pc il cambio di identità di una nintendo che dice ok anche noi abbiamo bisogno di ristrutturarci forse stiamo veramente andando verso un momento di guarigione una frase con la quale voglio chiudere prima di salutarvi viene da un libro che volevo mostrarvi ma non ce l'ho qui davanti si chiama factfulness di un artista svedese venuto a mancare qualche anno fa che mi ha molto mi ha molto segnato lui parla spesso di analisi dei dati di come dobbiamo vedere ai numeri di come dobbiamo vedere ai grafici di come dobbiamo vedere ai trend e in particolare dice una cosa che voglio lasciarvi e che voglio sia la cosa veramente che mi metta ah non è questa ok pensavo di avere la maglia col taschino che vi mettete nel taschino le cose possono andare male ma comunque star migliorando il mondo videoludico al momento non sta bene il mondo videoludico al momento per lo più sta male ma sembra star migliorando con il sacrificio di molti dipendenti con il sacrificio di molti giochi ma sono convinto e vi voglio e mi voglio dare questa speranza che un punto di equilibrio ci sia e come quando da piccoli ci si rabalta prima di imparare a stare in piedi anche perché ricordiamoci che il mondo del videogioco è incredibilmente giovane credo che a quell'equilibrio ci arriveremo a 32 minuti direi che posso tranquillamente chiudere spero di avervi lasciato qualcosa anche oggi noi probabilmente ci vediamo domani ci saranno giorni nei quali non pubblicheremo e pubblicherò perché magari mancano gli stimoli per un discorso interessante come questo io però vi ringrazio di aver ascoltato e di avermi guardato fino adesso perché ci sta seguendo su youtube ci vediamo e ci ascoltiamo prestissimo buona giornata, buon gaming e ovviamente keep on gaming grazie a tutti